...conferenti della giuria che devo presentare. Benvenuti in liceo alla 34esima edizione del Festival Studentesco Provinciale. Manca il trofeo sul palco, di solito apriamo la prima serata con il trofeo vinto dall'istituto che l'ha vinto l'anno scorso. L'anno scorso l'anno scorso ha vinto il liceo di classe Medarducci e il vittore della stessa parte del liceo di portare il trofeo sul palco. Ciao! Ciao, buonasera a tutti. Ma come sempre il trofeo viene rimesso, veniamo un attimo avanti, viene rimesso in palio. Ci sono in concorso quest'anno 16 istituti, compresi 3 istituti della provincia, di Brunico, Bressanone e Berano. Il classico lo riporta, mi hanno già detto che avrebbero l'intenzione tra una settimana di riportarselo via. Vediamo se... ...di un'anno scorso in grado. Sì, beh, ci proveremo. Ci proveremo fino a sabato, ci proveremo. Ok, allora un applauso a coloro che hanno vinto il trofeo la scorsa edizione, magari se vi aiutate lo corrono è già fuori voi, però poi lo lasciate qua perché lo rimettiamo in palio. Grazie! Ciao! E iniziamo subito la serata. Avremo più o meno 17-18 esibizioni. Ci alterneranno diverse discipline, dalla musica classica, alla danza classica, all'arte varia, alla contribuzione drammaturgica, alla recitazione. Avremo anche un piccolo intervallo, più o meno un po' prima delle 10, in maniera da poterci sgranchire un attimino legata. Partiamo con la musica classica. Al teloporte ci propone improvviso l'opera 90 numero 2 di Schubert, Giuseppe Lappina per il liceo classico di Parvizzi. Grazie!